Centro Italia Sport di Viviani è la grande impresa che firma i migliori impianti sportivi. Centro Italia Sport ad Alba Adriatica. Contattateci allo 0861 78 20 41 oppure cliccate su www.centroitaliasport.it Allo sport ci pensa Viviani. Centro Italia Sport di Viviani. Centro Italia Sport di Viviani Centro Italia Sport di Viviani. 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 Sono pronti? Perfetto. Per l'applauso la Youth Brass Band di Ovalas. La Youth Brass Band di Ovalas 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 Grazie a tutti 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 Ancora un grande applauso per la giovanissima brass band di Iovaras Lituania Maestro vicino a me prego straordinari, bravissimi, devo dire grande energia straordinario maestro al nostro energico maestro consegniamo la targa e il vino per la pace della Cantina Cormons che ringraziamo anche quest'anno presente al Festival Internazionale di Bande Musicali la Youth Breast Band Jovaras arriva dalla Lituaria un grande applauso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti